Sono circa 60.000 le persone che ogni anno in Italia muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco. In caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce in modo statisticamente significativo a salvare fino al 30% in più delle persone colpite. La legge 3 aprile 2011 numero 120, la legge Balduzzi, prevede l'utilizzo del defibrillatore anche da parte di personale non sanitario. Inoltre un obbligo di legge per tutti coloro che decidono di dotare la propria struttura di un defibrillatore frequentare dei corsi di formazione. Nell'ambito del percorso formativo anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia coordinata da Orazio Coccomini organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. Il corso si pone come obiettivo l'apprendimento da parte del partecipante dell'esecuzione efficace e sempre aggiornata, delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo in maniera appropriata del defibrillatore semiautomatico. Il corso è realizzato secondo le linee guida American Heart Association, aggiornati al 2015, aperto a tutti i cittadini anche per coloro già in possesso di attestato di BLSD ma non aggiornato, incaricati al primo soccorso aziendale o presso centri sportivi, soccorritori, medici e infermieri e risponde all'esigenza delle associazioni sportive di avere a disposizione personale formato, abilitati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Durante la formazione non si apprenderà soltanto l'uso dello strumento ma anche le manovre della rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie respiratorie in base alle nuove linee guida. Oltre alla parte teorica ci sarà molto tempo da dedicare alla parte pratica per dare modo a tutti i partecipanti di imparare ad eseguire correttamente e tempestivamente le manovre di rianimazione a utilizzare il defibrillatore in diversi contesti. Per le varie prove ci sarà l'ausilio del manichino. Al termine del corso superato l'esame finale acquisito un punteggio sarà rilasciato l'attestato di esecutore BLSD valutabile esensi del DM 30 gennaio 1982 esensi degli articoli 8 e 46 del DPR 761 del 79 che certifica l'idoneità come esecutore abilitato all'uso del defibrillatore semiautomatico. Inoltre l'attestato rilasciato è valevole ai fini di punteggio per concorsi e altre attività.